Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di San Polo per andare a conoscere le motivazioni del GIP che hanno poi portato alla scarcerazione. Non è una persona né violenta né pericolosa, si tratta di un uomo che è agito per difendere la propria e l'altrui incolumità. La sua reazione è scattata essendogli impedita ogni via di fuga con la casa mezza distrutta. Queste le motivazioni che hanno portato il GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini a scarcerare Sandro Mugnai, il 53enne Aretino, che la sera del 5 gennaio ha sparato uccidendolo al vicino di casa che con la benna di un escavatore stava colpendo la sua abitazione, rischiando di farla crollare. Io difeso la famiglia ma poi anche se hai fatto questa cosa poi ci si sente questa persona, è sempre possibile. Intanto la PM Laura Taddei, titolare del fascicolo, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima Gesim Dodoli di 59 anni e la perizia balistica ha certamenti che dovranno contribuire a ricostruire ogni possibile dettaglio di quanto accaduto quella terribile notte sulle colline di San Polo. Il prossimo venerdì sarà assegnato al professor Mario Gabrielli l'incarico per l'esame autoptico che sarà effettuato alle scotte di Siena. Lunedì 16 gennaio invece sarà assegnato l'incarico per la perizia balistica sui colpi esplosi dalla carabina da caccia regolarmente detenuta dal 53enne. Una volta raccolti tutti gli elementi, la PM potrà valutare se chiedere rinvio a giudizio o semplicemente l'archiviazione, sposando quella che la tesi sulla legittima difesa ha portato avanti dagli avvocati di Mugnai. Stabanni si è tornato in aula anche per la tragedia dell'archivio di Stato nella quale persero la vita due impiegati, Piero Bruni e Filippo Bagni. È stato ascoltato il perito informatico Locicero, incaricato dalla Procura di eseguire accertamenti su alcuni aspetti prettamente tecnici. Sono stati così analizzati dati informatici relativi al funzionamento dell'impianto dal quale si verificò la fatale fuoriuscita di gas Sargon. Secondo l'accusa, la valvola sarebbe stata montata in modo errato. 11 in tutte le persone sedute sul banco degli imputati, tra loro anche l'allora direttore dell'archivio di Stato, il suo predecessore, il vicecomandante dei Vigili del Fuoco e alcuni addetti alla sicurezza sul lavoro. Adesso torniamo a parlare della nomina di Francesco Macri alla presidenza di Estra. Il Comune di Arezzo ricorre al Consiglio di Stato. Il Comune di Arezzo ha avviato il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso sempre dell'ente contro la deliberanac che definiva illegittima la designazione di Francesco Macri alla presidenza di Estra. A darne notizia è il vice-sindaco Lucia Tanti. Il Comune di Arezzo è assolutamente convinto di aver agito in modo corretto, dice circa la designazione di Francesco Macri alla presidenza di Estra, ben ricordando che questo Comune ha proposto e al pari degli altri Comuni votato in assemblea di Coingas la designazione di Macri. Su mandato della Giunta ho avviato le procedure per proporre il ricorso al Consiglio di Stato avverso questa sentenza nominando difensore dell'amministrazione comunale l'avvocato Giuseppe Caia del Foro di Bologna. Siamo infatti del tutto certi che il percorso intrapreso dal Comune di Arezzo fosse trasparente e legittimo e quindi intendiamo portare avanti le nostre ragioni in ogni sede. Riva Disco, conclude Latanti, come ho sempre fatto in questi anni, che alla correttezza del percorso formale sia unita anche a una scelta opportuna nella proposta di Francesco Macri, votata praticamente da tutti i sindaci della provincia di Arezzo, che nel ruolo di presidente ha svolto il suo incarico con competenza portando importanti risultati a vantaggio del territorio. Maggiori controlli anche in orario notturno a Montevarchi, questo l'impegno preso questa mattina dalla riunione del Comitato Provinciale per Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesto dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiesai Martini. Ringrazio prefetto questore e tutte le forze dell'ordine intervenute all'incontro per l'immediata disponibilità che hanno dimostrato dopo la mia richiesta di lunedì a seguito dell'ultimo episodio di delinquenza. Sempre nell'ottica della massima collaborazione tra istituzioni, gli organi preposti hanno assicurato una maggior presenza sul territorio attraverso misure straordinarie con l'impiego anche di corpi speciali per il contrasto allo spaccio, gli stupefacenti e di altri fenomeni illeciti, ma anche controlli mirati sulle abitazioni in quelle aree della città più sensibili. E adesso una storia a lieto fine, quella della cagnolina Matilda salvata dai vigili del fuoco. A lanciare l'allarme infatti era stata l'azienda Falcinelli durante un'ispezione alle fogne. Qui hanno trovato il cane ed hanno chiamato i pompieri che sono intervenuti per trarla in salvo. La cagnolina è stata così riconsegnata alle cure della sua famiglia. Cambiamo argomento. Quando è stata approvata la convenzione tra Regione Toscana, Ministero della Difesa e Parco Interregionale del Zasso di Simone Simoncello per valorizzare l'area del poligono militare di Carpegna nel comune di Sestino e realizzare attività ed opere per il recupero e la conservazione del patrimonio naturale, ambientale ed archeologico della zona, oltre che per la fruizione naturalistica e per la ricerca scientifica. Il poligono militare di tiro permanente di Carpegna è un'area di addestramento militare che insiste su due aree protette ed è inserita anche nella rete Natura 2000 di Valore Europeo ed è sottoposta ad un calendario di esercitazioni che rende possibile la convivenza tra attività militari con altre attività agricole e pastorali e di promozione del territorio. E adesso andiamo a sentire l'allarme lanciato dai farmacisti anche a retini in merito alla carenza di alcuni farmaci. Questo qui è il terzo giorno che vengo a prenderlo, il medicinale, molte difficoltà. Farmaci che scarseggiano nel picco dell'influenza stagionale con il rischio di una recrudescenza del Covid, insomma, potremmo trovarci nel mezzo di una tempesta perfetta. Qui non c'era, su un'altra farmacia c'era. La carenza di farmaci riguarda in particolar modo anti-infiammatori ed antibiotici. Mancano per tre motivi. Uno è la mancanza di determinati principi attivi che principalmente le ditte farmaceutiche anche in Italia o a livello europeo, mondiale vengono rifornite dalla Cina e dall'India e più mancano anche dei prodotti che riguardano il confezionamento dei medicinali. In più si sovrappone, ultimamente abbiamo notato, anche un problema di produzione industriale non solo in Italia ma anche in Europa. Carenze poi anche per farmaci più specifici come ad esempio quelli per le patologie croniche. In questa situazione il farmacista consiglia di intanto di assumere se ci sono reperibili dei farmaci equivalenti oppure fornire dei consigli per alternative terapeutiche a questo. In più, quando dovesse perdurare questo stato di mancanza di un determinato medicinale, il farmacista è stato sempre abilitato a fare il medicinale in farmacia in formula magistrale. L'invito adesso è quello al buonsenso dei cittadini per evitare accaparramenti che peggiorerebbero soltanto la situazione. Passiamo alla politica primaria del Partito Democratico, oggi ad Arezzo Stefano Bonaccini. Il PD ha un sistema di valori, una capacità di proposta, un radicamento sul territorio che lo rende il partito più popolare in Italia. Quello che in questo momento manca al PD è che le idee camminino sulle gambe degli uomini, ovvero che ci sia una leadership che porta avanti quello che è il patrimonio di valori e di programmi. E mi sembra che per solidità, rassicurazione, capacità ideale, ma anche concretezza nell'essere uomo di governo, Bonaccini sia la persona giusta per guidare il PD. È il giorno di Stefano Bonaccini, dopo aver toccato altre tappe in Toscana, arriva anche ad Arezzo alla sede del Partito Democratico in piazza Sant'Agostino. Il presidente della regione Emilia-Romagna è in città per presentare la propria candidatura nella corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il PD ha bisogno di rigenerarsi, di ripartire. In realtà sarebbe anche più forte di come spesso si racconta e si presenta, no? Perché siamo poi capaci anche noi di a volte avere poco fiato lungo. Abbiamo perso le elezioni, è vero, ma le hanno perse anche 5 Stelle e Terzo Polo, sembra che loro abbiano vinto. Abbiamo il dovere adesso di completare queste settimane, questi mesi di congresso. Per fortuna ieri sera si è trovato un accordo sulle regole. Ci mancava solo se ci fossimo divisi anche su quello. Però, come ho detto, bene le regole, ma noi il voto degli italiani lo prendiamo se parliamo e li convinciamo su un'idea di sanità, di scuola, di lavoro, di ambiente. Se diventa un segretario sicuramente non ci vorranno più 5-6 mesi per fare un congresso, perché sembriamo dei marziani. La gente ha tempi di vita un po' più brevi di quelli che abbiamo noi per scegliere un segretario, una segretaria o un gruppo dirigente. Però è anche vero, questo invece lo dovremmo difendere con orgoglio, che siamo gli unici che fanno partecipare tanta gente a scegliere chi li deve guidare. Spesso mi chiedete, ma quanti devono essere quelli che partecipano? Io vi rispondo, chiedetelo agli altri partiti. Non glielo potete chiedere perché non lo fa nessuno. Io non temo che il PD scompaia, temo una cosa peggiore, che è la nostra irrilevanza, perché vorrebbe dire, quando fai le alleanze, ad esempio, essere subalterni agli altri, voglio che il PD riscopra la vocazione maggioritaria, che è il contrario dell'autosufficienza, perché le alleanze sono indispensabili, ma le dobbiamo fare da una posizione di forza. Se divento segretario non succederà più che il gruppo dirigente nazionale non si candida nei collegi e nei territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale, i candidati e le candidate al Parlamento le facciamo scegliere con le primarie, ad esempio ai toscani, perché non è lo strumento perfetto, ma basta per accadutati da Roma da tutte le parti, perché il rapporto col territorio è indispensabile. Soprattutto voglio un partito democratico che sia un partito più popolare. Io se divento segretario il primo incontro lo chiedo a Giorgia Meloni, per dirle che troverebbe in me non un nemico, ma un avversario, che darebbe rispetto e quindi lo pretenderebbe, che ad ogni critica che faremo aggiungeremo però una proposta alternativa, e che se troviamo l'accordo per collaborare su certe cose, si collabora nell'interesse degli italiani. Adesso sarà interessante capire tra i sindaci di centro-sinistra chi appoggerà la mozione Bonaccini. Tra coloro che si sono già dichiarati a favore di Stefano Bonaccini, c'è Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. Parliamo adesso della scuola Medaglia Miracolota delle Suole di Santa Marta, di vice omaggio. C'è stato un incontro questa mattina anche con la vice sindaca del comune di Arezzo, Lucia Tanti, il sindaco di Civitella Tavarnesi. Al centro del confronto, la chiusura della scuola decisa a Roma dalla congregazione. Un tavolo di lavoro destinato ad allargarsi a tutte le persone di buona volontà e aggiornarsi entro alcune settimane, ha dichiarato Lucia Tanti. Questo è il risultato del primo incontro, prosegue un confronto chiaro e costruttivo. C'è da parte di tutti la volontà di trovare un modello di gestione nuovo che possa rilanciare questa particolare struttura educativa cercando l'alleanza di tutte le istituzioni. La Fondazione Arezzo in Turri invece questa mattina ha tracciato un bilancio dell'edizione 2022 di Arezzo, città del Natale. I risultati danno presenza in crescita addirittura rispetto al 2019 che per noi è stato l'anno top prima del Covid. Quindi città del Natale che si è estesa, che ha consolidato la sua grande vitalità e che ha portato risultati significativi. L'edizione 2022 di Arezzo, città del Natale, è stata senza dubbio l'edizione dei record come raccontano i dati monitorati dalla Fondazione Arezzo in Turri che traccia un bilancio del lavoro svolto. Abbiamo avuto, confrontandolo con gli anni precedenti, un'ottima tenuta nella seconda parte del Natale, che voi sapete che liberandosi Piazza Grande quindi venendo meno al mercato tirolese viene meno una parte importante della manifestazione. Quest'anno ha tenuto molto bene anche nei giorni feriali tanto che per la prossima edizione ragioneremo anche sull'opportunità di allargare le giornate di apertura. Sono circa 55.000 le presenze alberghiere registrate nel periodo della manifestazione mentre sono tra le 74.000 e le 78.000 quelle stimate complessivamente con l'extra alberghiero nel periodo che va dal 1 novembre all'8 gennaio. Uno studio di Banca d'Italia attribuisce un valore di circa 109 euro per ogni turista che soggiorna in una città. Se moltiplicate, arrotondando per difetto, 100 euro per 74.000 presenze il conto è presto fatto. A questo poi ci va aggiunto tutta una serie di presenze che sono quelle dei camper, quelle dei pullman, il turismo mordi e fuggi. Oltre 2.000 poi biglietti staccati per ammirare i planetari e circa 500 quelli unici per la visita ai musei cittadini. Evidentemente chi viene per la città di Natale poi sa che ci sono i musei sa che ci sono cose da vedere e si ferma anche a vedere quelle. Importanti dati che fotografano il posizionamento di Arezzo sul mercato turistico italiano. Nel periodo monitorato dal 15 ottobre 2022 al 4 gennaio 2023 Arezzo è la 36esima destinazione turistica in Italia e la seconda per crescita della domanda. Non c'è dubbio che la città di Natale è quella che può partire l'interesse per questa città da parte di chi non ci è mai venuto ci è venuto soltanto per pochi minuti per motivi di lavoro. Vengono con le famiglie molti a vedere questa attrazione e poi tornano con calma a godersi il resto della città. Quindi è un trigger che può partire un qualche cosa. Il nostro obiettivo è quello di allungare questo periodo di grande affluenza anche a mesi nei quali tradizionalmente non c'è una grande presenza. Numeri dunque importanti che hanno portato però anche ad una serie di conseguenze da gestire una su tutte la pressione sul sistema dei parcheggi aretini. L'utilizzo dei parcheggi è stato particolarmente rilevante nel parcheggio baldaccio, nel parcheggio mecenato oltre che negli altri. Questo dimostra che il lavoro fatto assieme alla fondazione Arezzo in Tour ha funzionato di informare colui che viene ad Arezzo di dove parcheggiare in Arezzo. Quindi per cercare di intercettare in un qualche modo l'informazione per poi arrivare a destinazione in maniera comoda. Questo è il punto per evitare la cosiddetta confusione del traffico. E sempre di più lavoreremo su questo schema. Torniamo a parlare di Tiziano Birra. Il clossard preso a Sassate arriva adesso una raccolta fondi per aiutarlo. Perché è una brava persona, una persona che non dà fastidio, una persona che non chiede niente. Una raccolta fondi per aiutare Tiziano Birra, il clossard svizzero che da anni abita in una rullotta nel parcheggio del polo scolastico di via 25 Aprile assieme all'inseparabile Bubu. Il suo riparo di fortuna nella notte tra Natale e Santo Stefano era stato infatti preso a Sassate da un gruppo di ragazzi che avevano spaccato due finestre, poi le scuse seguite da un biglietto con 80 euro per ripagare il danno dagli autori dell'ignobile gesto rimasti sempre anonimi ed infine purtroppo un altro assalto che aveva messo fuori uso anche la terza finestra. Sento sclenca e hanno rotto l'ultima finestra di là. Io andavo in giù, mi hanno tirato una sassata pure a me, ma non mi hanno preso. Quindi così adesso si è passato i limiti. Episodi sui quali indagano le forze dell'ordine che avevano immediatamente scatenato tanta solidarietà nei confronti di Tiziano. Adesso è la raccolta fondi per poter riparare le finestre del camper a lanciare l'iniziativa il Caffè Noir di Via Vittorio Veneto nella zona del Sottopasso dove Tiziano trascorre gran parte delle sue giornate. Voi vi eravate già mobilitati? Sì, abbiamo già fatto una raccolta fondi qualche anno fa per acquistare questa rullotta perché lui abitava fuori. Lui è sempre qua con il suo cane? Sì, tutti i giorni, tempo permettendo. È morto all'età di 59 anni dopo una lunga malattia a Biagio. Conte, nei suoi pellegrinaggi a piedi in tutta l'Italia, aveva attraversato anche Arezzo. Sì, stiamo entrando nella Toscana da due giorni. Abbiamo lasciato l'Umbria, da Sisi, Gubbio siamo stati e ora siamo entrati da due giorni in Toscana. Ora passeremo la Toscana per poi andare anche in Emilia Romagna e a ventaglio a tutte le rimanenti regioni. Era passato anche da Arezzo Biagio Conte o come preferiva farsi chiamare lui Fratel Biagio. Queste immagini sono dell'aprile 2017, siamo in via Fiorentina ad Arezzo. Il missionario laico palermitano si è spento a 59 anni dopo aver lottato contro una malattia. Il suo cammino dalla Sicilia per tutta l'Italia con la croce sulle spalle e vestito come se fosse appena uscito dal Medioevo aveva colpito tutti. Lui lo aveva fatto per portare un messaggio di pace. Pace e speranza a voi tutti fratelli e sorelle, a questa umanità. Pace e speranza a tutta l'umanità. Questo è il motivo anche di questo cammino. L'angelo dei poveri di Palermo, così verrà ricordato, aveva una storia davvero particolare dopo un'immersione nelle acque dell'Urds, si alzò dalla sedia a rotelle e cominciò a camminare. Nel tempo ha incontrato anche Papa Francesco e oggi un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha definito punto di riferimento non soltanto per Palermo, per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità della persona. La missione di speranza e carità che aveva fondato nel 1993 oggi accoglie più di 400 persone in difficoltà. Le volte ci mandano a quel paese, ci giudicano, mamma ci dicono parole pure e io alzo la croce, gli faccio il Padre Nostro e tu vedi che si ammorbidiscono, vanno via, vanno via, no, 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 perché la croce è dolorosa ma è gloriosa ed è gioiosa, è l'egoismo, è l'indifferenza, è il male primario. State attenti ai pericoli ma cerchiamo la verità e andiamo verso il bene. Il male è sempre in agguato ma rispondiamo al male con il bene. Si è concluso il corso di formazione cucina inclusiva organizzato dall'agenzia formativa CESCOT di Confesercenti e dall'associazione Crescere per far acquisire ai partecipanti una serie di autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante attraverso la socializzazione e la collaborazione. Tre mesi di scuola di cucina, il laboratorio dove 14 corsisti hanno potuto acquisire le abilità di base per cucinare ed imparare le competenze utili per accimentarsi nell'arte dello chef. Voltiamo pagina e passiamo allo sport. Attiva la pre-vendita dei biglietti per la partita che gli amaranto giocheranno domenica allo stadio ma al servisi Matteini di Gavorrano tagliandi disponibili sul circuito Ciao Ticket e presso i punti vendita autorizzati ed intanto è stato ufficializzato l'anticipo della partita con la San Giovannese a sabato 21 gennaio fischio d'inizio alle 15. Questo in seguito alla decisione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viuminale che ha voluto evitare la concomitanza con Montevarchi-Sielan di Serie C calendarizzata per il 22 alle 14.30. E oggi si sono aperte anche le iscrizioni per il terzo rally Terra Valle del Tevere di Arezzo in programma 11-12 febbraio. La seconda gara di quest'anno in Italia e la prima su strada bianca entra così nella sua fase importante quella che sino a lunedì 6 febbraio definirà il plateau di partenza. La gara di Valtiberina è stata confermata al rango tricolore per le vetture storiche che apriranno le partenze avrà anche una validità internazionale. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.